un qualcosa che è sicuramente utile raccontarci subito perché ci serve anche per l'operatività sui mini short e sui mini long sul sugli indici di volatilità e che il contratto bix in realtà è vero che è un indice ma è un indice investibile attraverso i relativi contratti future e contratti future come tutti i derivati hanno un termine sono dei contratti a termine quindi ci sono delle scadenze temporali no quindi c'è la scadenza di dicembre poi ci sarà la scadenza successiva e così via tipicamente la curva dei contratti future sul bix è una curva che si definisce in contango è questa parola che sicuramente avrete letto mille volte che è proprio il contango cioè quella situazione dove i prezzi delle scadenze future quelle che devono arrivare sono un po più alte rispetto al prezzo attuale della del spot perché perché tecnicamente la volatilità tende nei mesi successivi anche in situazioni di mercato abbastanza tranquille si considera che debba essere un pochino più alta ma senza grandi strappi viceversa quando abbiamo uno strappo di volatilità quindi ad esempio una volatilità che sale improvvisamente a 40 45 per effetto della min reversion che è praticamente una tendenza proprio del bix a normalizzarsi a tornare verso la propria media la curva si inverte diventa una curva in backwardation cioè le scadenze successive tenderanno ad essere più basse e questo che stiamo leggendo qui in questa in questa immagine è molto importante per il proseguio del nostro appuntamento ma per la vostra operatività perché dovrete sapere quindi che in una situazione di curva in contango che è quella che c'è anche in questo momento andando ad acquistare un contratto future long un mini long scusate sul bix puntando sul fatto che possa salire quindi per coprirsi dal rischio di salita e quindi coprire il portafoglio dovrà tenere conto che nel frattempo nel corso dei mesi ci sarà questo contango cioè questa differenza tra un contratto e l'altro che sarà a sfavore io venderò il contratto a 27 per comprare il successivo a 27 50 quei 0 5 io li pago nello spread rollover cioè in quello che è il passaggio tra una scadenza e l'altra e a questo proposito proprio per evitare che poi sia una presentazione a una sola voce matteo vogliamo immediatamente specificare quindi che il future che c'è che il sottostante dei mini future sul bix effettivamente è il contratto future e che quindi è soggetto a rollover spread magari senza entrare troppo nel tecnicismo a livello dei giorni in cui viene effettuato però possiamo un po' specificare effettivamente un po' come avviene cioè se lo paghiamo come lo paghiamo allora sì quello che tu dici è corretto il sottostante è un futures quindi diciamo cosa vuole dire vuol dire che poi magari entreremo più nel dettaglio ma il singolo mini futures che compriamo ha come riferimento un'unità del sottostante quindi un futures cosa succede quando c'è un un rollover quindi quando un future sta per scadere e bisogna quindi trasferire la posizione su un'altra noi vendiamo il diciamo supponendo di un mini long vendiamo il prodotto il il futures su cui avevamo esposizione quindi supponiamo una settimana fa che fosse quello di settembre e andiamo a comprare quello di ottobre siccome il nostro riferimento è sempre un contratto futures cosa succede succede che andremo a vendere il vecchio ad un prezzo più basso ma dobbiamo andare a comprare il successivo ad un prezzo più alto quindi è sostanzialmente un costo che sia noi come emittente sia voi se comprate questo prodotto dobbiamo effettivamente andare a pagare come viene applicato poi questo lo vedremo lo vedremo più tardi andiamo a spostare verso l'alto i livelli di strike e di barriera dello stesso importo quindi se aumenta di se ad esempio la curva tra due futures consecutivi è di 50 centesimi per farla per farla semplice andremo a spostare verso l'alto sia per i long sia per i short il di 50 centesimi sia i livelli di strike sia i livelli di barriera quindi ecco diciamo che da un punto di vista operativo e il fatto che ci siano delle scadenze mensili e quindi eventualmente una situazione di contango non indica che io vada a perdere necessariamente dei soldi però non riesco ad ottenere quel profitto che magari immagino di avere per il fatto che nel frattempo il contratto future è passato da 25 a 28 no e questo ti devo dire Matteo è stato un po' ciò che ha ingannato per tanti anni gli investitori sul natural gas io ricordo il natural gas ma ma ti parlo già 15 anni fa eh c'erano degli strumenti che permettevano di operare sul natural gas e questo gas tu lo vedevi magari oggi che valeva tre e poi dopo un anno e mezzo valeva quattro o cinque e vedevi che lo strumento che avevi utilizzato in realtà non aveva guadagnato era rimasto più o meno da quelle parti e le persone dicevano ma allora non funziona no semplicemente era una curva talmente in contango molto ripida che da tre arrivare a quattro adesso è un po' estremizzato ma comunque immaginiamo da tre arrivare a quattro non è che era il natural gas che era salito ma era la differenza da un contratto all'altro che quindi va a neutralizzare questo questo differenziale effettivamente quindi è importante sapere che c'è questa situazione in contango perché se io oggi ad esempio volessi acquistare un mini long come quello che ho fatto vedere poc'anzi mentre tu parlavi un mini long sul bix pensando che da qui a quattro mesi ci potrebbe essere una salita graduale fino ad arrivare a area ventotto da ventisei e quindi io mi immagino di guadagnare da questo non è detto che in realtà sarà un guadagno potrebbe essere semplicemente quei due dollari siano già prezzati nella curva del future corretto sì 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 il ragionamento e ragionamento è assolutamente assolutamente corretto diciamo perché la memoria un po meno storica si può ricordare anche fino a un po di tempo fa anche le inclinazioni della curva del petrolio del brand che avevano un po queste queste forme quindi sì quello che tu dici è assolutamente assoluto